Un Montepaone cinico conquista i tre punti importanti al curto di Catanzaro Lido contro il Borge che aveva assoluta necessità di conquistare la prima vittoria caselinga. Basta il gol al trentaseisimo del primo tempo di Capitan Conivi a regalare alla squadra di Alessandro Pisano i tre punti. Però bisogna dire assolutamente che il Borge quantomeno meritava il pareggio per un secondo tempo condotto tutto all'attacco con delle situazioni particolari con un Lombardo che è stato capacissimo di intercettare alcuni palloni davvero destinati alla porta. Con l'arbitro signor Idone di Reggio Calabria che non concede almeno un calcio di rigore alla squadra del Presidente Lapiana che certamente meritava di raggiungere almeno il pareggio. Così non è stato. Alla fine c'è stata un po' troppa attenzione che noi stigmatizziamo perché assolutamente non ha nulla a che vedere con il calcio e con le partite giocate. Però non sta bene assolutamente che ci siano delle vendette personali perché effettivamente il calcio è un gioco e tutto deve concludersi nel momento in cui l'arbitro fischia la fine ed emette il triplice fischio. Purtroppo così non è stato. È qualche episodio da condannare e speriamo che non provochi ulteriori conseguenze perché davvero è stata una cosa non bella da vedere. Alla fine il risultato ha premiato il Real Montepone. Ripeto, il Borge meritava quanto meno il pareggio però così non è stato e il Borge rimane ultimo in classifica con i due punti mentre il Montepone con queste vittorie si porta a centro classifica in una fase abbastanza più serena per il suo prosieguo del campionato.